Musica 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 Alla ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono Xradar E oggi siamo tornati su MC Creator E andremo a vedere come si esporta una mod Io in realtà questo tutorial avrei preferito Farlo dopo una volta spiegati tutti gli elementi Della mod di MC Creator Tuttavia avete insistito in diversi Quindi ho deciso di farlo subito Per prima cosa per esportare una mod Bisogna andare qua E compilare questa pagina Basic settings Bene Quindi bisogna mettere il nome della mod L'id della mod all'interno di Minecraft E la versione che avete già scelto Eventualmente controllate se Magari volete cambiare versione Poi dovete mettere la versione della mod Che non è la versione di Minecraft in cui gira la mod Ma è bensì la versione appunto della mod Cioè per dire se ho già pubblicato Questa mod E però poi ho fatto qualche modifica Ho aggiunto qualche cosa Per esempio potrei mettere 1.1 E vi dicendo Poi dovete mettere una breve descrizione Della vostra mod Che si vedrà in alcuni casi All'interno di Minecraft L'autore della mod Cioè il vostro nome E poi un sito Di default c'è il sito di MC Creator Nel caso avete creato un sito apposso Per la vostra mod Mettete il sito E infine il logo della mod Se l'avete creato E io vi consiglio di crearlo Il logo potete scegliere tra le immagini Che avete caricato In Other textures Quindi se volete creare un logo Dovete aggiungere una nuova texture E caricarla in Other textures E poi da qui la potete selezionare Una volta completato Dovete andare su questo tastino qua In alto Ed appunto esportare la mod Inizierà a ricomperarla Ci metterà un attimo E poi vi comparirà Un messaggio In cui vi chiede Di accettare l'eola Eccolo qua Vi consiglio di leggere sia il messaggio Poi di leggere l'eola stessa E dopodiché potete accettare l'eola Ed esportare la mod Attenzione è molto importante Dovete per forza Dire in qualche modo Che avete creato la vostra mod Con MC Creator Perché non siete abilitati Proprio per l'eola Di usare la vostra mod In modo commerciale Cioè di venderla O di nascondere il branding Di MC Creator Comunque Una volta letto tutto quanto Accettate l'eola Ed esportate la mod Scegliete dove esportarla Cioè in quale cartella Del vostro computer E scrivete il nome del file Della mod Quindi nel mio caso La mod si chiama Tutorial E il file si chiamerà Tutorial E sarà un file jar Cioè appunto Il file della maggior parte delle mod Fate salva E adesso Creerà il vostro file E lo troverete sul desktop Eccolo qua Bene E già che ci sono Visto che ho tempo Essendo questo tutorial molto breve Vi spiegherò anche come Aggiungere mod Su Minecraft E in particolare Appunto la mod Che avete appena esportato Per prima cosa Vi servirà Forge stesso Quindi andate su questo sito Che trovate in descrizione Scegliete la versione Della vostra mod Che può essere Per ora solamente O 1.12.2 O 1.14.4 E scegliete L'installer Del vostro Sistema operativo La maggior parte di voi Sceglierà il Windows installer Io devo scegliere Quello per il Mac Perché ho un Mac Vi si apre una pagina Dovete aspettare 3 secondi Poi fate skip E adesso Semplicemente Vi scaricherà il file Apritelo E una volta aperto Installate Forge Poi adesso Io non ve lo mostro Perché da Mac È un po' diversa situazione Comunque dovete andare Nella cartella Punto Minecraft Che trovate In percento Update percento E andare lì A cercare La cartella Mods E se non c'è La create voi E una volta creata O trovata Ci mettete dentro La mod Che avete creato Quindi il file Punto jar Che avete esportato prima Poi se volete Pubblicare la vostra mod E renderla possibile Ad altri Il download Dovete andare Innanzitutto Su mccreator Proprio il sito E Semplicemente Compilare questa pagina Trovate il link In descrizione E poi vi consiglio Di andare Anche su altri siti di mod E creare una pagina Della vostra mod Anche su essi Per esempio Il più famoso È senza dubbio Curse Forge Questo tutorial Finisce qui Se avete domande Problemi o richieste Non esitate a chiederli Nei commenti O nel gruppo Telegram In descrizione Se volete Restare aggiornati Sul canale E sui nuovi tutorial Iscrivetevi Attivate la campanellina O Entrate nel canale Telegram In descrizione Da Xledar è tutto Xledar Burn E sui nuovi E sui nuovi